Sono sei le persone guarite nella città di Agropoli che fanno scendere il numero di cittadini positivi al covid. Le sei persone fanno riferimento ai casi risultati positivi intorno alla metà di ottobre. Sono stati rilevati però altri tre casi positivi che fanno riferimento alla catena dei contatti del 21 ottobre. In questo caso si tratta di persone asintomatiche che già erano in isolamento e per le quali si sta ricostruendo la catena dei contatti. Dunque i casi positivi ad oggi nella città di Agropoli sono 17. Il primo cittadino da Mocopola però ha tenuto a chiarire alcuni punti su due argomenti. Il Ministero della Salute ha modificato il protocollo per gli asintomatici mentre in passato era previsto come per i sintomatici il tampone veniva fatto nell'immediato. Non appena il soggetto veniva inserito nella catena dei contatti di una persona risultata positiva al covid-19. Ora come da circolare del 12 ottobre 2020 è stato stabilito che per i contatti stretti asintomatici ci sono due alternative. Osservare un periodo di quarantena di 14 giorni senza essere sottoposti a tampone oppure fare un periodo di quarantena di 10 giorni al termine del quale essere sottoposti a tampone. Una decisione secondo noi non condivisibile perché porterà un conseguente rallentamento nella costruzione della catena dei contatti. Il secondo punto su cui il sindaco Adamo Coppola ci tiene a chiarire è la lettura combinata dell'ultimo DPCM del 24 ottobre 2020 e dell'ordinanza regionale numero 85 del 26 ottobre 2020 e relativa rettifica. Le attività di bar al pari di quelle di ristorazione sono tenute a chiudere alle ore 18 ma possono effettuare l'asporto fino alle 22.30 e la consegna a domicilio fino alle 23 al pari delle altre.